Capisco che la lettura sia qualcosa di difficile, però magari leggere la mozione prima di andare a commentarla con superficialità forse rendeva più degno e importante il ruolo di quest'aula, perché stiamo parlando proprio di questo. Per noi il problema non era cosa c'era scritto, perché nel bene o nel male le altre volte quello che era stato scritto era stato deciso e votato in ufficio di presidenza. Qual è il grande problema? Che in questa occasione io credo che il rischio, come avevo detto ieri in capigruppo, al presidente Cattaneo era che se portavano questo tipo di provvedimento in ufficio di presidenza non avevano i numeri o la maggioranza per approvarlo. Quindi cosa ha pensato bene il presidente Maroni, mi auguro anche senza l'appoggio del presidente Cattaneo, di fare questa decisione d'imperio, quando avrebbero tranquillamente potuto portare una mozione urgente in aula, farla votare dal Consiglio regionale e legittimare la loro scelta. Invece hanno fatto una toppa peggio del buco che dimostra l'incoerenza di chi qua si lamenta che la Giunta non li considera, soprattutto io parlo dei consiglieri in maggioranza, per poi farsi scavalcare e asfaltare per cosa? Per delegittimare tra l'altro l'immagine del Consiglio stesso. E qui, presidente, visto che devo parlare a lei, mi appello soprattutto a lei. Mi appello a lei che sono sicuro che in casi diversi, con scritte, che non rientravano all'interno della sua sensibilità, o perlomeno a favore della sua sensibilità, avrebbe trovato, credo, qualsiasi escamotage per bloccare questa iniziativa e qualsiasi escamotage per sanzionarla successivamente. Invece noto un doppio pesismo e questa cosa ci dispiace molto. Perché, ripeto, il tema non è cosa c'è scritto, il tema è come è stato gestito tutto. Perché allora, presidente, se lei ci tiene così tante le istituzioni, visto che viaggia in mezzo a Europa per difendere il Consiglio regionale, poi ci spiegherà bene a far cosa, perché io, ripeto, non ho ancora capito la Calre e la Cotel, che cosa portano i Lombardi, ma me lo faccia dire, mi scusi. Però dovrebbe a questo punto dimettersi, dire no, sono stato scavaltato in qualità di presidente, hanno delegittimato il ruolo del Consiglio, le mie dimissioni sono qui per l'aula, votiamo un nuovo presidente. Questo mi aspetto. Lei che ci tiene così tanto alle istituzioni e che difende le regioni, dovrebbe farlo. Un gesto forte, no? È in linea con la figura di Cattaneo che lei è riuscito a disegnare comunicativamente. Bene, lo dimostri. Oggi il Movimento 5 Stelle è arrivato in aula, e mi spiace che Romeo, ripeto, non ha letto la mozione, chiedendo di dare dignità al Consiglio, di ridare centralità a questo aula, ridare centralità a questo edificio. Se Maroni voleva fare una scritta e ha vinto le elezioni, aveva 39 piani per fare qualsiasi vaccata, non si può fare perché costa di più, perché deve bloccare tutti i dispositivi automatici, giusto? E forse perché non ha lo stesso prestigio, vogliamo dire anche questo? È più bello, sì, perché è nuovo, ma il prestigio, l'impatto che ha il Pirellone sulla piazza Duca d'Aosta rispetto a un palazzo di 39 piani in mezzo a altre palazzine, non è la stessa cosa. Allora, quello che noi abbiamo portato in aula, e ringrazio il Consiglio Casalino per averlo fatto, è semplicemente, volete voi che il Consiglio regionale sia centrale nelle decisioni almeno che riguardano se stesso, o volete tranquillamente far fare quello che vuole a Maroni? Questa è la domanda. Io credo che l'opposizione su questo sia abbastanza in linea, vuole, immagino, mi auguro, difendere l'istituzione, ma la nostra domanda è alla maggioranza, perché poi a questo punto, se volete farvi schiacciare, non lamentatevi, non lamentatevi di nulla, più, basta. Professor Galli, lei non può farci i sermoni sull'importanza delle regioni, su tutta l'autonomia, 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 e poi a secondo di come tira il vento, no, beh, Maroni, perché se va a casa Maroni qua è un casino, perché poi noi chi cacchi entra qua dentro, questo è il grande motivo che avvalora la richiesta di autonomia del Consiglio regionale. Se Maroni va a casa, noi siamo senza 8200 euro nette al mese, questo è il grande tema, non è i lombardi, l'autonomia, le leggi, il problema è questo. Allora, ripeto, vogliamo farci valere oppure vogliamo continuare a farci scavalcare? È una scelta che spetta a voi, la nostra posizione è chiara, se per caso il nostro testo ritenete che richiede delle modifiche, bene, fatele, proponete qualche modifica, no, ma qualche modifica che legittimi questo palazzo, che lo difenda, il palazzo della giunta, ah beh, cosa facciamo, lo affittiamo, tanto i soldi ce li dà la giunta, cioè troviamo sempre gli escamotage, no, in punta di regolamento come un burocrate qualsiasi, che la giunta dia la gestione al Consiglio regionale garantendosi degli spazi per sé, gli spazi che ha, li vuole garantire per farsi le sue scritte sui piani di Arca e di Expo e lo faccia, ma l'autonomia del Consiglio regionale va assolutamente garantita e credo che voi autonomisti convinti dovreste assolutamente farlo, perché altrimenti siete un po' incoerenti, poi diciamoci la verità, non sarebbe neanche la prima volta, perché ormai ci avete abituato, quindi io la ringrazio Presidente e la invito a esporsi lei in prima persona, a mettersi in gioco, a dimostrare coi fatti che si sente scavalcato, perché se lei si sente scavalcato, lei politico navigato, che giustifica l'essere stato scavalcato in questo modo, con un mero problema burocratico, suona un po', cioè stride un po', no, adesso siamo onesti, no, allora capisco che il tema alla fine le faceva comodo, quindi ha chiuso un occhio, forse li ha chiusi anche tutti e due, perché, non so, ripeto, poi sono in mala fede e sicuramente lei mi smentirà. Però credo che sia un atto dovuto anche quello di dire, mi hanno scavalcato, ero il Presidente di questa aula, forse è il caso che torni a fare consigliere, in modo tale da poter far valere le mie istanze, e quindi credo sarebbe un atto che noi accoglieremmo in maniera più che positiva, ringraziandola per tutto quello che ha fatto, ma legittimando quest'aula, perché a quel punto, con le sue dimissioni, staremmo a vedere cosa farebbe l'aula, se le respingerebbe per difenderla oppure no, perché potrebbe essere anche questo un esercizio di stile politico, di politica, di valutazione, del Consiglio. Quindi, ripeto, invitiamo pertanto la Lega, soprattutto il capogruppo Romeo, che ha trovato un escamotage banale per non discutere del tema, a rileggerla, eventualmente fare delle modifiche, se ritiene, però assolutamente difendere le istituzioni, altrimenti la prossima volta va bene che temi, la maggioranza non ne porta più in aula, quindi non abbiamo grande cose in calendario. Però allora a questo punto dimettiamoci tutti, andiamo pure tutti a casa, perché a questo punto Renzi ha solo che ragione a voler abbattere questi enti. Grazie.